Ciao, benvenuti 19 Tigre Secondi, difficili in un giorno di silenzio, di lutto, ma siamo vicini ai nostri amici terremotati, continueremo a esserlo, la PRO ha dato già un primo segnale, così i tifosi. Il sogno è proprio quello di rimanere a fianco e di invitare, quando sarà l'anno del centenario, Mr. Pirozzi e gli abitanti di questi paesi colpiti ma in via di ricostruzione. In quella ricostruzione vogliamo rimanere accanto giorno dopo giorno e anno dopo anno.